In collaborazione con Soa di Lupi Silvano, Centro Cinofilo Ipioppi, Centro Cinofilo Ipioppi, nuova gestione, pensione cani e gatti, addestramento cani, nuova area gioco, nuova gestione, ristorante e pizzeria Ipioppi. Il Contro Talent di Radio Capital è Capitalent. Se puoi sognarlo, puoi suonarlo. Oggi siamo qui per parlare di Capitalent, il primo Contro Talent italiano in onda su Radio Capital, mi pare sia la seconda edizione, quella di quest'anno. Siamo insieme a Danilo Decaria, che fa parte di una band orvietana ormai notissima, almeno a tutti noi orvietani, quella dei Nuera. Volevo subito chiederti una cosa, Danilo, prima di parlare di Capitalent. Nuera, esiste anche un gruppo americano che si chiama Nuera? Nuera è un nome comune, per noi è il significato di una nuova era, per cercare di portare una musica con una positiva vibrazione per tutti coloro che partecipano ad ascoltarla e a suonarla. Se vuoi sognarlo, puoi suonarlo. Parliamo un po' di questo concorso importante, 4.000 mi pare partecipanti, voi vi siete classificati fra i primi 12. Beh, è stata una possibilità che abbiamo visto online, essendo anche degli ascoltatori di Radio Capital, c'è venuta questa opportunità, l'abbiamo colta. In questo periodo stava uscendo il nostro brano The Shining e quindi abbiamo provato con questa canzone, aspettando un po' che cosa succedesse. Poi effettivamente siamo a nostra, così insaputa all'improvviso, abbiamo scoperto di essere tra i 12 finalisti. Tra i 12 finalisti ci sarà un vincitore e il vincitore verrà decretato dai radioascoltatori. Sì, fino alla fase finale saranno proprio i radioascoltatori e tutti gli amici che potranno sostenerci attraverso un voto da direttamente il sito di Radio Capital nella sezione Capitalent che è proprio relativa al concorso dove partecipiamo. Bene, allora a noi non resta altro che augurarvi in bocca al lupo e in culo la balena come si dice e voi votate, votate, votate i Nuera perché sono bravissimi, il brano è bellissimo e poi loro sono una band orvietana, non ce ne vogliono gli altri artisti ma noi tifiamo Nuera. Grazie, grazie, votate. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.